Cari bambini, ragazzi e genitori, benvenuti in questa giornata. Io sono Lucio Dalla e per primo ho creduto e sostenuto le attività di Ansabio. L'Ansabio ha organizzato in vostro onore un magico e festoso spettacolo di Natale intitolato Canti, Balli, Magie e il sogno di Dario C. Sicuramente, come tutti i bambini, sarete curiosi di sapere chi è riuscito ad organizzare tutto questo e come. A tale proposito, carissimi angioletti, vi chiediamo tutti di entrare nel mondo delle favole e crederci. State tutti attenti perché adesso vi racconteremo una vera storia diventata realtà. Non tanto tempo fa, in un piccolo paese lontano, c'era un bambino che sognava tutte le notte di diventare un dottore. Un dottore che si prendesse cura dei piccoli ricoverati. Il suo scopo, però, non era soltanto quello di aiutare a guarire il corpo, ma cercare di sostenere i bambini durante il periodo di lungodegenza. Così, il piccolo sognatore tutte le notti immaginava fate, principi e folletti che insieme a tanti artisti del mondo dello spettacolo andavano tutti insieme ad animare e a rallegrare i lunghi e freddi pomeriggi che i bimbi e le loro famiglie durante le feste di Natale trascorrevano in ospedale. Bambini e ragazzi, nei panni del dottor Sorriso, il piccolo, ora grande sognatore, Dario Cirrone. La mia idea è quella di arrivare in tutta Italia, in tutti gli ospedali d'Italia. Comunque Bologna ha dato un'esclusiva, quello di portare il circo con tutte le sue scenografie, luce e immagine e gli artisti veri, proprio come in televisione.